Ok, andiamo verso il tunnel. Qui ci sta una manopola. La tiriamo. E si apre la porta. Dai, apriti. Ah. Ok. Torre di Heidi. Heidi, uuuuh, tutti i sorridori. Cazzo di nomi, seriamente, dai. Oddio, sti giganti. Oh. Ma come ho fatto a prendere? Ok. Ce ne sta un altro con un martellone che vuole imitare Warhammer. Cazzo. E ancora. L'altro attacco. Ok, l'ha fatto. Oh. Mori. Polvere d'osso sublime. Ah, ci potenzio la fiaschetta. Sì, i tre insieme. Ma stavo scherzando. Ti sta dappia per culo. Ah, ok. Mi sta venendo solo quello, tanto. Con uno spadone. Mori. Oh, cazzo. Mi stanno venendo due insieme. No. Mori. Ma come non lo prendi? Aia. Dai, che cazzo. Sì, ma non li prendo, dai. Loro mi prendono. Oh, dai. Vabbè. Fottetevi. Ah, ok. Sì, sto boss lo conosco. Sono sicuro che è quello lì che cade di sotto dopo una botta, una roba del genere. Ce l'avevo visto. Mori. Chi è? Oh, questo chi è? M'han seguito fino a qui. Mi odia a tal punto. No, non mi prendi tanto. E mi ha preso. Gira dei 360 gradi. Allora. Vediamo i segni. Chi è questo? Gladiator. Thunderbolt. Questo chi è? Ah, questo è un bot. Ok, evochiamo il bot. Dai, vieni senza padrone. Ok. Vado al boss con una fiaschetta. Bellissimo. Cazzo. Vediamo se riesco a farlo cadere di su. No, eh. Vieni qua, fa un passo. No, non cade di sotto. Sapevo che si faceva tipo così, però non cade. Vabbè, gli meno. Aia. Fa male. No, non morire, schiavo. E dai. Mi prende da un chilometro. Mi prende da un chilometro. Dai, glencore. Picchialo. Mori. Ha perso equilibrio. Strano. No, tanto non me prendi qua. Dai, attacca glencore. Oh, bravo. Strano che non mi ha preso. Dei solito te piano quando attaccano quelli dietro. Aiuto. Oh. Mori, va. Facilissimo. E ovviamente si cura adesso, come al solito, no? Tutti così fanno. Ok, coliscia. Eh, eh. Ti sei fregata. Aiutare i griglioni, eh. Bello. Non fai tutto per l'arcri. Però mi vengono i miracoli. Perché non ci faccio un cazzo, perché non li posso usare. Ma non rompere questa idea che sta a fregare, Rob. Allora. Eccola qui. Ok. Funziona solo con i miracoli. Non è che mi fido tanto, però comunque è l'unico modo per passare. Ok. Ecco la via. Truffatrice del cazzo. Non rompere le palle. Allora. Acqua rossa. Ma chi è questo? Lasciami in pace. Scompio, scurito. Ma che cazzo vuoi? Vabbè, falò. Il boschetto del cacciatore. Che ci sta più avanti. Che cos'è sta roba? Che cazzo è? Una farfalla che... Fa roba verde, vabbè. Oh, morì pure tu. Delle tombe. Aiutami, che cazzo. Oh, sto per cadere. Ehm... Ehm... Oh, cazzo. Ehm... Dove andare? Di qua. Perché c'è morto uno qua? Oh, che cazzo? Leva te. No. Qui non ci posso andare. Oh, chi è questo? No! No! Pezzo di merda! Ma dai! Vaffanculo! Ed eccoci qua. Adesso ammazzo quello stronzo. Via! Tutti a fa' imboscata è qui, non è possibile. Dai, vieni qua. Non me freghi stavolta. Stronzo. Allora. Un falò. Andiamo avanti. Ok, c'è un tizio piuttosto grande con due... Shotel, ne pare siano. Oh, cazzo. Oh, backstab. Mazzanto gli levo. Mori. Cosa mi sta... Che cos'è? Ah, roba verde. Da velena. Farfalla di merda. Ok, ho fatto scendere un ponte. Se mi metto qua mi schiaccia tipo... No, meglio non provarci. Ok. Oh, lì c'è un falò. Mazzan altro. Ah, è chiuso. Ma c'è uno lì dentro. Vabbè. È imprigionato. Ok, mi ha invaso, credo, un NPC. Non so che cazzo. Eccolo. Ma che c'ha? Oh! Stronzo. Sì, vabbè, non c'ho... Guarda quanta vita c'ha! No, no, no. È troppo forte. Non mi si ricarica la stamina, dai! Oh, backstab. Astrumizza. Sì, vabbè, io non la colpisco, lei mi colpisce pure da dietro. Mori. La stamina è lentissima a ricaricarsi, non è così. Ancora è viva, non ci credo. No, vabbè. Mori. Cioè. Che veramente. Ok, presumo ci sia un boss. Andiamo. Sì, vabbè, sto andando da solo contro le fiaschette. Oh, cazzo. Tre scelerri. Vediamo se sono forti. Ma c'hanno poca vita. No, però, gliene leva di meno, sabba. Cazzo. Aiuto. No, vabbè, non posso usare le fiaschette così, però. Mori. E uno. Che sta a fa' questo? Si esplode, che sta? Ah, ecco la fregatura. Si bucano i scheletri. Vabbè, c'hanno poca vita. Però cazzo. No, dai, ma perché mi mira quell'altro? Artri. Ah, giusto, ho ammazzato quell'altro. Ok, aspe... Che cazzo? La stamina è di merda, non si ricarica. Sì, vabbè. Dai, non si ricarica la stamina. Questi mi diranno pure le palle de' fogo. E non... Che cazzo? Non si ricarica la stamina. Ci metto un'ora e mezza. Mori pure tu. Sì, con buon finita quest'altro. Ma che cazzo? Una dalletta es... Esplode. Vabbè. Curati. E questa era l'ultima. Adesso sono fottuto. Ok, sono morti tutti gli scheletrini. Rimane questo. Che spawneranno altro po' di quelli. Mori. Questo che mette? No, no. Questi no. Questi no. Questi no. No, 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 no. Questi no. Ti prego, no. Questi no. L'odio. L'odio che ho nei confronti di questi. No, 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 no. Devi morire. Basta. Oh, che cazzo. Alla fine ho vinto però. Abbassiamo un altro ponte. Ma che cazzo? Ah, c'è il ponte abbassato quello. Non era difficile questo boss, a parte le ruote, se quelle mi piavano ero morto. I scheletri ruota li odio proprio. Ok, Valle del Raccolto. E c'è una tizia. Vabbè, che vende pietre. Vabbè, parliamoci. No, non vende pietre, vende solo 10 titaniti. Vabbè. Qui che c'è? Arphalò. Oh, che cazzo? Una velena. Eh, sono tutto verde. E aumenta anche il veleno. Ah, ok. Le vado. Vabbè, alla prossima. Ciao. Ciao.